Una vittoria per riprendere la marcia verso le zone alte della classifica dopo i soli due punti racimolati nelle ultime tre sfide di campionato. Una vittoria per ricordare nel migliore dei modi Antonio Sibilia, il commendatore che se n'è andato qualche ora prima di Avellino Catania. La gara contro gli Etnei non è una partita come le altre, vuoi perché il Catania è appena retrocesso dalla massima serie e aspira chiaramente a farvi ritorno nonostante le difficoltà registrate in avvio di stagione. Vuoi perché tra le due tifoserie c'è un'accesa rivalità che in un passato neanche troppo lontano ha portato a qualche episodio poco piacevole. Sul campo la partita è molto sentita e tirata, Rastelli ripropone D'Angelo al centrocampo con Conè e Darini, sugli esterni spazio per Regoli e Visconti con Bittante e Zito, quest'ultimo alle prese con problemi fisici, che si accomodano in panchina. In avanti il tecnico conferma Arrighini in tandem con Castaldo. Il Catania prova ad orchestrare la manovra, Avellino attende e punta sulle ripartenze. Succede poco o nulla fino a metà tempo. L'attaccante ex Pontedela si invola sulla corsia di sinistra, supera Sauro e mette palla dentro. Castaldo è più lesto di Frisonno, lo anticipa e viene steso. Rigore netto ed ammunizione per l'estremo difensore del Catania. Il centro avanti dei Lupi non fallisce dal dischetto e mette dentro, l'ottavo centro di stagione. Poco dopo entrambe le squadre sono costrette ad un cambio per sostituire i giocatori con problemi muscolari. Rastelli manda in campo Bittante per Vergara, San Nino mette dentro Marcellinio per Peruzzi. Il tecnico dei biancoverdi deve reinventare la difesa. Il neo entrato gioca sull'out destro, chiuso a scala centrale, con Pisagani a sinistra. Gli ospiti accusano il colpo dello svantaggio e pur provando a fare la gara non riescono ad essere incisivi negli ultimi 16 metri. E invece Avellino rendersi pericoloso al termine di uno splendido schema, su calcio d'angolo. La palla arriva a regoli che tutto solo in aria avversaria serve un cioccolatino per Castaldo. Il pinturicchio biancoverde quasi non ci crede e liscia clamorosamente. Sul finale l'unica occasione per il rosso-blu. Marcellinio mette palla in aria dove Leto sbetta più in alto di tutti. Il suo colpo di testa sembra indirizzato all'incrocio ma Gomis si attento e manda in angolo. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Il Catania prova ad impensierire la difesa erpina ma non riesce a creare occasioni importanti. Anzi è l'Avelino in un paio di occasioni ad andare vicino al raddoppio. I lupi pensano però a chiudere soprattutto gli spazi agli avversari e riescono a subire poco nulla. Al triplice fisco del signor Aureliano in campo e sugli spalti è festa grande. Al partenio Lombardi cade un'altra big e l'Avelino si riaffaccia in zona playoff.